buongiorno a tutti oggi vogliamo dimostrarvi il funzionamento dei due robo da cucina della silvercrest abbiamo qui il messier cuisine plus e il messier cuisine connect l'ultima versione proveremo a preparare uno stesso identico piatto con gli stessi ingredienti lo stesso quantitativo in tutti e due robo contemporaneamente e vedremo alla fine qual è il risultato se ci sono differenze sia nella nel piatto finale sia nei tempi e nelle modalità di preparazione innanzitutto vi faccio vedere come questi due robot sono differenti a livello di dimensioni mentre il plus si diciamo sviluppa più su un piano orizzontale vediamo che invece il connect si sviluppa più su un piano verticale quindi a seconda delle vostre cucine poi potrete valutare se si colloca meglio il plus il connect vediamo poi due schermi questo è quello del connect vedete uno schermo touch screen con le varie funzioni che sono sintetizzate in questa rotella tempo velocità e temperatura mentre qui sul plus abbiamo diciamo le proprio le scritte impastare cottura a vapore rosolare per quanto riguarda i programmi e sono queste le funzioni di tempo temperatura e velocità i programmi invece automatici sul connect sono qui premendo il tasto in alto impastare cottura a vapore e rosolare ma procediamo alla preparazione vediamo innanzitutto l'apertura del boccale per quanto riguarda l'apertura del boccale così per il plus in questa maniera per il connett vediamo le dimensioni il plus a un boccale da due litri mentre il connett a un boccale da tre litri procediamo alla preparazione del nostro piatto sarà una semplice pasta al sugo la prima cosa che andiamo a fare è mettere mezza cipolla all'interno del boccale chiudiamo tutti e due i tanti ed impostiamo 10 secondi velocità 5 senza temperatura e anche qui impostiamo velocità 5 per 10 secondi adesso andiamo a mettere dell'olio richiudiamo di nuovo i tanti ed impostiamo in tutti e due i robot la funzione rosolare quindi qui andremo alle funzioni automatiche rosolare vi faccio vedere le differenze di pre impostazione non ce ne sono perché per ambe due il programma pre impostato prevede 7 minuti velocità 1 130 gradi con funzione reverse per tutti e due i robot io abbasso un po il tempo e un po il tempo e un po la temperatura quando rosolo gli alimenti perché ho verificato che sia con il plus che con il connett le temperature pre impostate i tempi pre impostati in alcuni alimenti possono causare la bruciatura quindi metterò 100 gradi per 3 minuti e mezzo e anche qui abbasso a 100 gradi per 3 minuti e mezzo e diamo il via in tutti e due allora partiamo a vedere l'interno del boccale del messer questo questa è la rosolatura della cipolla ci sembrano abbastanza simili due andiamo a mettere adesso 100 grammi di salsa di pomodoro di polpa all'interno del plus e all'interno del connect dopodiché riattiviamo di nuovo in ambedue robot la funzione rosolare sempre come vi ho detto prima per tre minuti e mezzo a 100 gradi automatica rosolare 3 minuti e 30 100 gradi e anche qui rosolare abbassiamo a 100 abbassiamo a 33 andiamo via arrostolatura del pomodoro terminata andremo a mettere l'acqua e la pasta noi metteremo 150 grammi di pasta vedete in questo formato e aggiungeremo 250 ml di acqua diciamo che il rapporto ottimale tra pasta e liquidi è il doppio ovvero se utilizziamo 150 grammi di pasta ci dovranno essere nel boccale 300 ml di liquidi nel nostro caso preparando una pasta con la polpa di pomodoro consideriamo che c'è già una parte di liquido costituita dalla colpa quindi invece di mettere 300 ml di acqua ne andremo a mettere 250 se preparati invece ad esempio una pasta come l'aglio olio e peperoncino oppure una pasta che non prevede sughi liquidi dovete regolarvi sul doppio quindi 100 di pasta 200 di acqua 200 di pasta 400 di acqua adesso andiamo a solare ancora il nostro pomodoro poi vi farò vedere come ci comportiamo per l'acqua e per la sua bollitura le rossolature del pomodoro è terminata come prima vi faccio vedere qual è il risultato all'interno del boccale del servizio in plus ecco la nostra salsa di pomodoro io la vado a togliere dalle lame aiutandomi con una spatola non uso quasi mai quella in dotazione perché non mi piace preferisco usare queste spatole in silico come a mio avviso lavorano meglio sui boccali e andiamo a vedere il risultato all'interno del commento vedete boccale un po più ampio quindi probabilmente il sugo è anche rosolato in maniera maggiore quindi procediamo con l'acqua mettiamo i nostri 250 ml nel boccale del clus e chiudiamo il coperchio e poi mettiamo i nostri sempre 250 ml nel boccale del commento ci prepariamo alla bollitura dell'acqua io in genere metto sempre un tempo che va dai 12 ai 15 minuti verificate però poi se il robot è arrivato a temperatura perché magari se l'acqua è molto fredda potrebbe metterci di più allora quindi impostiamo la funzione reverse e mettiamo mettiamo 12 minuti questa volta 12 a 100 gradi velocità 1 anche qui mettiamo 12 minuti velocità 1 100 gradi reverse vediamo via in ambito e il robot mentre cuoce l'acqua va a bollore vi faccio vedere una cosa allora il plus a per ora ci indica che sta ad una temperatura di 65 gradi e vedete il simbolo della farfalla significa che a questo tipo di velocità quindi velocità 1 noi possiamo utilizzare la farfalla questo simbolo scompare quando utilizzeremo velocità che vanno dal 4 in su fino a 4 si può lavorare con la farfalla sopra il 4 no perché la farfalla si spacca e vediamo che invece per quanto riguarda la cottura si può cuocere fino a velocità 3 si può impostare la temperatura dopo la velocità 3 la temperatura non è più impostabile per quanto riguarda invece il comment vediamo ci indica i gradi qui stiamo a 55 gradi quindi circa 10 in meno rispetto al plus ma questo probabilmente è dovuto al fatto che il boccale è più grande e il calore si risperde di più e anche per il plus per il connect scusate vale la stessa cosa che comunque la farfalla può essere utilizzata solo fino alla velocità 4 e che si può cuocere solo fino a velocità 3 vedete i robot sono arrivati tutti e due a 95 gradi il connect e il plus sono passati soltanto 4 minuti già hanno raggiunto una bella temperatura aspettiamo ancora che arrivino a 100 ovviamente se vedete che i robot arrivano a 100 gradi prima dei 12 minuti che avete impostato potete già iniziare a versare la pasta perché significa che l'acqua è bolle l'acqua bolla a 100 gradi quindi è in ebollizione potete buttare la vostra pasta il plus è arrivato a temperatura vedete 100 gradi il connect ancora no vediamo a quale minuto il nostro connetta arriverà a temperatura ripeto il fatto che il boccale sia più ampio probabilmente genera una maggiore dispersione del calore lascio ancora bollire l'acqua nel plus per poter andare di pari passo poi nel versare la pasta vedete anche il connect a circa 7 minuti è arrivato a temperatura adesso io stopperò i processi e per velocizzare vi faccio vedere come tutto la pasta e che cosa imposto ho stoppato vado a versare i miei 150 grammi di pasta nel plus e con una spatola cerco di farla finire bene nel liquido vedete cerco di farla finire il più possibile nel liquido della dell'acqua tutto il coperchio faccio la stessa cosa nel connect essendo più ampio ci dà più facilità di manovra anche per altri tipi di piatti questo tenetelo presente e mettiamo il coperchio allora la nostra pasta da un tempo di cottura di 13 14 minuti quindi noi ci regoliamo con il tempo di cottura indicato sulla confezione della pasta poi andiamo ad assaggiare ed eventualmente ad aumentare il tempo per ambedue robo imposterò quindi 14 con il connect potete anche lavorare con il dito questa maniera 14 funzione reverse velocità 100 gradi anche qui andiamo ad impostare 14 è un po più ostico a girare la manovella del plus 14 ho detto poi mettiamo sempre 100 gradi sempre velocità 1 reverse e vado a far partire tutti e due robot andiamo a vedere dal sollevando il tappo del coperchio il misurino l'interno del boccale verificate sempre se vedete che a pochi minuti dalla fine della cottura c'è troppo liquido potete continuare la cottura togliendo il tappo in maniera tale che si assorbirà di più l'acqua evaporerà io non lo tolgo perché vedo che il liquido non è non ce n'è moltissimo quindi aspetto la fine della cultura e vi faccio vedere poi il risultato mentre i nostri robo lavorano vi volevo far notare una cosa sullo schermo del connect una cosa che lo differenzia dal plus e che c'è questo simbolo ovvero la possibilità di mettere la lavorazione in pausa senza che si perdano le impostazioni della temperatura della velocità e del tempo che avevate precedentemente impostato nel plus questa funzione non c'è e se dovete fare qualcosa mescolare aprire il coperchio si azzerano automaticamente tutte le funzioni mentre con il colletto appunto potete mantenere la preparazione sta terminando adesso vi faccio vedere il risultato all'interno del boccale cominciamo con il servizio in plus vediamo la nostra pasta vedete solo qualche rigatone si è spezzato durante la cottura però la risottatura perfetta vediamo cosa è successo il colletto sono quasi tutti interi forse la grandezza del boccale ha influito in maniera positiva sulla preparazione della pasta adesso andiamo ad impiattare vi facciamo vedere il risultato direttamente nel piatto ecco le due paste impiattate questa quella realizzata con il colletto e questa quella realizzata con il plus vedete qui c'è qualche come vi dicevo prima qualche rigatone in più rotto qui sono tutti integri la risottatura e la medesima sembrano perfetti anche gustosissimi andiamo a vedere l'interno dei boccali il connect presenta un boccale abbastanza pulito non ci sono bruciature sul fondo anche il plus è abbastanza pulito una lieve bruciatura lì sull'angolo che verrà via con una paglietta d'acciaio e con un po di sapone una piccola difficoltà l'unica piccola difficoltà che abbiamo riscontrato è stata quella del doppio manico del connect che nel momento in cui versiamo la pasta e dobbiamo poi pulire il fondo con la spatola ci risulta un pochino complesso fare questo movimento però che si può riuscire tranquillamente un po di perizia spero che la dice che la ricetta vi sia piaciuta ma che soprattutto siano state chiare le differenze tra i due prodotti perché in molti ce l'avete richiesto sia sul nostro sito che sul nostro gruppo facebook e a questo proposito vi invito a seguirmi sul sito www.messiericette.it ad iscrivervi al nostro gruppo facebook Messier Cuisine Connect plus Italia e soprattutto vi invito ad iscrivervi al mio canale dove trovate oltre a questo tutorial anche tantissime altre ricette da realizzare con i vostri robot buona cucina a tutti